Impressionismo Monet's water lilies are a famous example of impressionism. Le ninfee di Monet sono un famoso esempio dell'impressionismo. Arte astratta I dipinti di Jackson Pollock sono noti per il loro stile astratto. Scultura Michelangelo's David is a renowned sculpture. Il David di Michelangelo è una scultura famosa. Portrait Ritratto The Mona Lisa is a famous portrait by Leonardo da Vinci. La Gioconda è un famoso ritratto di Leonardo da Vinci. Still life Natura morta Van Gogh's sunflowers are a well known still life. I girasoli di Van Gogh sono una natura morta ben nota. Fresco The Sistine Chapel ceiling features frescoes by Michelangelo. Il soffitto della Cappella Sistina presenta freschi di Michelangelo. Cubism Picasso Picasso è una figura chiave nello sviluppo del cubismo. Fotografia Fotografia Ansel Adams era un maestro della fotografia in bianco e nero. Collage 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 Hannah Hawke pioneered the use of collage in art. Anna Hawke fu una pioniera nell'uso del collage nell'arte. Surrealism Surrealismo Salvador Dali's melting clocks are iconic in surrealism. Gli orologi sciolti di Salvador Dali sono iconici nel surrealismo. Mural Murale Diego Rivera's murals depict Mexican history. Gli affreschi di Diego Rivera rappresentano la storia del Messico. Abstract Expressionism Espressionismo astratto Jackson Pollock's number 1A is a prime example of this style. Number 1A di Jackson Pollock è un esempio di questo stile. Palette Tavolozza Artists use a palette to mix and apply colors. Gli artisti utilizzano una tavolozza per mescolare e applicare i colori. Canvas Tela Oil paintings are often created on stretched canvas. I dipinti ad olio sono spesso realizzati su tela tesa. Portrait Ritratto A portrait captures the likeness of a person. Easel Cavalletto An easel holds the canvas for painting. Un cavalletto tiene la tela per dipingere. Doodle Scarabocchio Many people doodle when they're on the phone. Molte persone scarabocchiano quando sono al telefono. Carving Intaglio Wood carving is a traditional craft. Albrecht Durer Albrecht Durer era noto per i suoi intagli complessi. Chiaroscuro Chiaroscuro Leonardo da Vinci used chiaroscuro in his artwork. Leonardo da Vinci usava il chiaroscuro nella sua arte. Graffiti Graffiti Street artists often use graffiti to express themselves. Gli artisti di strada spesso usano i graffiti per esprimersi. Mosaic Mosaico Ancient Romans created intricate mosaics. Gli antichi romani crearono mosaici complessi. Watercolor Acquerello Watercolor painting requires a delicate touch. La pittura ad acquerello richiede un tocco delicato. Palette knife Coltello da tavolozza Artists use a palette knife for texture and painting. Gli artisti usano un coltello da tavolozza per creare texture nella pittura. Calligraphy 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 Chinese calligraphy is a beautiful art form. La calligraphy cinese è una bellissima forma d'arte. Ingrading Incisione Albrecht Durer was known for his intricate ingredients. Albrecht Durer era noto per le sue incisioni complesse. Grazie.